Ben trovati dal Tg della mobilità, da lunedì 9 novembre in città più bus per potenziare il trasporto pubblico. La nuova programmazione prevede l'utilizzo di pullman turistici per i collegamenti meno frequentati e il rafforzamento delle linee ATAC più utilizzate con gli stessi mezzi dell'azienda. Emergenza sanitaria, nuove norme per contrastare l'epidemia, saranno in vigore da domani al 3 dicembre. Il nuovo decreto è stato firmato durante la notte, sarà in gazzetta ufficiale già questa mattina a livello nazionale dalle 22 alle 5 sarà vietato uscire di casa, salvo per motivi di salute o lavoro. Nel trasporto pubblico è previsto una capienza dimezzata al 50%, tutte le altre misure saranno differenziate tra le regioni in base alle aree di rischio. È tutto per questa edizione del Tg della mobilità.